e i lights di gara 1 nell'international GT Open Round inaugurale della stagione 2018 con Monterveni che sfiora il contatto mentre Mac mantiene la leadership su Venturini e Tom Oslon con ottima partenza di Campbell Walter, il contatto invece proprio tra Campbell Walter, Crestani e Brokers mette fine alla gara del pilota di casa in Periale, il contatto tra Passo e Cipriani ci nega la possibilità di vedere il barone rampante lottare ma qui parte la rimonta di Monterveni, contatto con Crestani che finisce in testa coda, a largo anche Rugolo il confronto fra Gian Maria e Crestani con il bellissimo board porta però al contatto tra i due Lamborghini, giudicato incidente di gara dalla direzione con il Romano e il Tampagliaia un passo di diamante nei confronti di West per il recupero di Nersfield, il podio al debutto nel GT Open anche Pierwood che subirà, conta del sorpasso, clamorosa prova del RS Racing al debutto il contatto tra West e Fioravani, questa coda per l'Ostinese che perde il secondo gardino del podio nella Pro-Am di Amato e Sarabia scortellate per il podio che porta un'altra Ferrari sul gradino il terzo dopo che questa inquadrata del Ludic Racing va sul primo due Ferrari e una Lamborghini davanti a tutti, prima vittoria in campionato per Sir Guidi e Mac quest'anno poi con Mull e Venturini di Amato e Montermini, questo è il podio è un'altra cosa Grazie Grazie